Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni dal 29 novembre al 3 dicembre 2021. Negli episodi precedenti, Tina ha visto sua madre baciare Armando dopo che suo padre Giuseppe è partito per la Germania. Negli episodi che andranno in onda dal 29 novembre al 3 dicembre, Tina parlerà di ciò che ha visto con la mamma. La Sarta è preoccupata che sua figlia possa parlare con Salvatore e Salvatore non la prenderebbe affatto bene se venisse a conoscenza del tipo di rapporto che c'è tra la mamma e Armando. Così promette a Tina che smetterà di frequentare il Ferraris. Ancora una volta quindi, nonostante si sia liberata del traditore di suo marito, dovrà rinunciare all'uomo che ama. Riguardo a Salvatore, se da una parte è felice per la sua nuova relazione con Anna e Imbriani, dall'altra è triste per la partenza di suo padre per la Germania, soprattutto perché è stata una partenza improvvisa. D'altronde Salvatore non ha visto Giuseppe per anni e ora che la sua famiglia si è finalmente riunita, lui è partito nuovamente per la Germania. Per questo desidera passare il Natale con la famiglia unita insieme a un padre. Così lo propone ad Agnese che però ha un atteggiamento strano e per lei è difficile continuare a nascondere la verità, ovvero che Giuseppe ha fatto un figlio con un'altra donna. Inoltre il fratello di Tina pensa che sia arrivato al momento di presentare la sua nuova fidanzata alla madre, però è alquanto preoccupato, dato che Anna in passato è stata sposata e ora è vedova e ha anche una figlia. Quindi, a differenza di Salvatore, ha tutta una vita alle spalle. Deciderà quindi di invitare sia Agnese che Anna al cinema per fare in modo che si conoscano. Nei prossimi episodi accadrà qualcosa che sconvolgerà la vita dell'amato. Del tutto casualmente, ascolta una conversazione tra Don Saverio e Armando e inizia a sospettare che tra il capo magazziniere e sua madre ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia. Tina, dopo aver visto il bacio tra Armando e Agnese, rivedendo il capo magazziniere, si sente in imbarazzo nei suoi confronti. Dopo che la madre ha promesso di lasciarlo, la giovane amato decide di affrontarlo. Armando, dal canto suo, non è molto felice di questa situazione che si è andata a creare e vorrebbe che Agnese dicesse ai suoi figli ciò che ha fatto Giuseppe e quindi la vera ragione per cui è partito per la Germania, ma lei non vuole. Dopo che suo fratello ha ascoltato la conversazione tra Don Saverio e Ferraris, Tina decide di raccontargli tutta la verità, o almeno quella che pensa essere la verità. Ha visto Agnese e Armando scambiarsi un bacio nel bar di Salvatore. A quel punto il fidanzato di Anna rimarrà sconvolto, fuori di sé dalla rabbia e prende una decisione drastica, ovvero se ne va di casa. Giuseppe quindi, che ne ha combinate davvero di cotte e di crude, passa come la povera vittima agli occhi dei figli.